La quantità di principio attivo è quella che abbiamo detto che deve essere esattamente la stessa presente per norma di legge, per definizione, la stessa presente nell'originato. Questo discorso dell'oscillazione del 20% da dove viene fuori? Riguarda come vengono fatti gli studi di bioequivalenza a cui abbiamo fatto cenno in precedenza e riguarda anche un altro concetto che adesso parlando parlando è venuto fuori della variabilità individuale per quanto riguarda la cinetica dei farmaci. Diceva prima il collega Luigi che se io prendo un farmaco oggi e misuro le concentrazioni plasmatiche troverò un certo valore e se faccio lo stesso lavoro a distanza di una settimana troverò un valore diverso. Quindi c'è un'oscillazione nelle concentrazioni plasmatiche a parità di farmaco e a parità di paziente che è assolutamente normale. Anzi ci sono dei farmaci che hanno una elevata variabilità ed è una caratteristica proprio specifica di un determinato farmaco, di un determinato principio attivo. Quindi assumere che ci possa essere un'oscillazione delle concentrazioni plasmatiche in un determinato intervallo quindi non sempre un 100% di concentrazioni che io posso ottenere come misura ottimale ma posso avere per esempio un 90% il giorno prima, un 110% il giorno dopo eccetera. è un fatto normale. Quindi come si ragiona? Io devo stabilire, e questo diciamo è stato, c'è un consenso internazionale su questi concetti, non è che poi ci sia, c'è stato qualcuno che se li ha inventati dal giorno alla notte. È stato stabilito qual è il livello di oscillazione di concentrazioni plasmatiche all'interno delle quali però io non mi aspetto nessuna variazione di risposta terapeutica. Quindi se un farmaco nelle sue, diciamo, in queste oscillazioni che può avere nella persona può avere dei valori che vanno fino al 20% al di sotto di un valore medio oppure fino al 20% sopra, se io misuro questo fenomeno nel sangue mi accorgo che c'è un'oscillazione ma se poi dovessi vedere che a questa oscillazione corrisponde una differenza di efficacia terapeutica questa differenza non si vede. Quindi questi limiti che sono stati posti di oscillazione del 20% al di sotto, al di sopra di un valore medio sono quelli che sono la normalità delle cose per un determinato farmaco, per un determinato paziente. E quindi io quando faccio le prove di bioequivalenza devo verificare che il farmaco bioequivalente si muova nello stesso intervallo in cui si muove anche di concentrazioni plasmatiche in cui si muove anche il farmaco originator. Quindi per il farmaco originator e per l'equivalente io posso aspettarmi un'oscillazione del 20% al di sotto o al di sopra di un valore medio senza nessun effetto misurabile sulla risposta terapeutica. Quindi questo famoso 20% in meno in più si riferisce a questo fenomeno dell'oscillazione nelle concentrazioni del farmaco nel plasma ma non alle quantità di farmaco presenti nella compressa.